Cioccolato e birra di Silvia. Allora, come è andata? La voce curiosa di Eleonora la raggiunse prima ancora di mettere i piedi in casa. E che ne so, quell'uomo infame, si è rigirato tra le mani il mio progetto con indifferenza e poi, senza neppure guardarmi, mi ha detto che gli sembrava quantomeno bizzarro che una donna progettasse appartamenti con cucine così piccole. Eleonora sgranò gli occhi, verme schifoso. Comunque, a differenza di te, io mi sono calata nel ruolo sociale di regina della cucina e ho preparato la torta al cioccolato per festeggiare la tua consegna. Risero all'unisono, poi diedero il via rituale post-esame, divano, birra con stuzzichini e la loro serie tv on demand preferita. Dovevano essere al quinto o al sesto episodio e alla seconda birra quando rientrò Clara dal turno al pronto soccorso. Ragazze, non potete immaginare cosa ho dovuto affrontare oggi. Il primario mi ha detto che c'era un lavoretto proprio adatto alle mie manine di donna e valette sapere cos'era? Ho dovuto togliere due zecche dal pube peloso di un uomo di 60 anni. Allora, una bella fetta di torta al cioccolato anche per te e si diresse in cucina per preparargliela. E ti sei guadagnata pure una birra. Poco dopo rincasò anche Amalia che disse con impeto. La Galli mi ha portato come assistente agli esami di genetica umana. Dopo i primi 5 o 6 esami i voti che dava lei non mi tornavano, erano sempre diversi da quelli che avrei assegnato io. Proprio così lei dà un voto in più alle donne ed uno in meno agli uomini. Dice che è questione di nemesi. Vuole vendicare i secoli di ingiustizie che le donne hanno dovuto subire all'università. Quando Eleonora si chiuse la porta della camera alle spalle per andare a dormire, l'espressione gioiosa che aveva in compagnia delle amiche lasciò il posto alla sofferenza che la divorava. Decise che ne doveva assolutamente parlare con loro. Sì, lo avrebbe fatto, domani però.